Qui a Lido di Fano, sabato giorno per noi cristiani dell'Assunta, ma per tutti Ferragosto, si svolgerà, come abbiamo fatto l'anno scorso, la celebrazione eucaristica alle 9.30 del mattino. Questo è l'ambiente, questa è la scena, con il sole, con il mare, con questo vento, e quindi saremo immersi nel creato. Come ci ha detto Papa Francesco, nella Laudato Si, cioè noi dobbiamo recuperare tutto quello che il Creatore ci ha messo nelle mani, per cui tutto quello che valorizza e qualifica le persone, come una celebrazione dell'Eucaristia, proprio fatta qui sulla spiaggia, e si fa proprio il giorno dell'Assunzione di Maria, il 15 agosto, sabato, proprio per ricordarci che il traguardo di tutti è la comunione con Dio, il cielo. Importante appuntamento previsto anche per domani, quindi la vigilia. Sì, anche per domani sera, quindi la vigilia, venerdì alle ore 21.15, però questa volta siamo dentro la chiesa di San Giuseppe al Porto, faremo una celebrazione vigiliare festosa, con canti e preghiere, cattoliche, protestanti, ortodossi, quindi ecumenica, in onore della Vergine Assunta in cielo e che ci richiama i grandi valori che dobbiamo custodire qui su questa terra per avere la garanzia del cielo.